ciao a tutti amici e benvenuti alla bianco auto oggi voglio presentare questa meravigliosa golf gtd 184 cavalli cambio dsg col pacchetto sport and sound dell'anno 2017 con solo 39.000 km vettura nel colore bianco oryx metallizzato tetto apribile fari full led fan di nebbia ruote da 18 pneumatici nuovi appena montati la vettura è in perfettissime condizioni è un ex dipendente di volkswagen che arriva direttamente dalla germania vetri posteriori oscurati vedete guardati cerchi come sono belli da 18 fari full led posteriori il colore bianco oryx metallizzato è fantastico tra l'altro poi il contrasto con il tetto apribile nero è una meraviglia guardate quel che voglio dire guardate questo contrasto di questa vettura guardate stupenda andiamo a vedere adesso dentro la vettura come vedete la vettura dentro è in perfette condizioni anche perché a 39 mila chilometri ovviamente i chilometri sono certificati andiamo a vedere la parte posteriore vedete che sedile sembra che non sia mai seduto nessuno dietro vedete anche nelle parti più nascosta la vettura è perfetta andiamo a vedere baule bello capiente spazioso il suo dispositivo carico passante andiamo ora a vedere la parte anteriore destra vedete super andiamo a vedere la parte posteriore destra vedete che è tutto perfetto ora andiamo a vedere gli accessori di questa vettura allora innanzitutto la vettura è dotata di keyless access quindi il tastino per l'avviamento e quando è avvicinata alla porta toccate alla maniglia la macchina si apre da sola vedete che ha solo 39 mila chilometri volante multifunzione con cruise control attivo specchietti richiudibili elettricamente fare automatici fendi nebbia poi qui abbiamo questo meraviglioso tetto disapribile vedete veramente fantastico poi abbiamo i sensori parcheggio avanti e dietro il navigatore bluetooth radio e il menu app connect prima automatico sedile riscaldati cambio automatico dsg a 7 marce che una vera meraviglia questa vettura la trovate da bianco auto a motta di costigliore d'asti vi verrà consegnata con tre anni di garanzia che valgono in tutta europa in tutta italia il tagliando fatto olio e tutti i filtri doppie chiavi tappetini in gomma lucidatura esterni sanificazioni interni e libretto di istruzione in italiano e tutte le vetture le consegnavo così sono vetture ex dipendenti volkswagen che arrivano direttamente dalla germania e vanno rimatricolate per la rimatricolazione ci pensiamo noi con la nostra agenzia e quindi andrete via da qui con la targa nuova veramente macchina super super figa se volete venire a vederla e a provarla venite a motta di costigliore d'asti presso bianco auto il nostro numero di telefono è 0 141 96 92 14 la mail è info chiocciola bianco auto punto it il telefono di cellulare 3 4 5 0 6 0 86 80 se volete venirla a vedere venite perché ne vale veramente la pena